Pronti per impostare il nostro quinto e ultimo programma, questo sarà quello più intenso in assoluto e voglio concentrare bene 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 su le gambe, le braccia, insomma un total body 10 minuti, stiamo già partendo da livello 10, allora questo è sicuramente più avanzato più piego, più sto lavorando con i miei muscoli, più salgo, lascio che lui lavora per me ok, sempre con gli addominali tesi mi raccomando, il nostro primo scatto è 10 e poi dopo andrà molto più veloce, siamo pronti, quando andrà molto più veloce scendiamo giù e faremo o braccia o gambe, ok sceso giù, braccia, ok, scendo, 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 braccia, braccia, braccia mi sta scioccando, oh ma lo sento io adesso vado proprio in stile militare, potete piegare le braccia se volete, potete anche tirare su il ginocchio, questo è molto avanzato, continuiamo, lo sentite molto sulle spalle, gomiti stretti, gomiti scusi, piegati, gomiti piegati, ok continuiamo, gomiti accesi, go 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 go, bello allenamento, paziente ok, si è sceso, interno coscio, scendo giù, adesso a questo punto scendo, vado, 2, 3, su, 1, 2, 3, su, continui, 1, 2, 3, su, continuo, 1, 2, 3, tira su, 1, 2, 3, tira su, 1, la prossima la faranno proprio per tutto, no total body, prossimo scatto, rimarremo, eccoci qua, partito, salgo su, adesso è molto molto intenso, addominali tesi, concentrati, addominali tesi, la schiena, diciamo, è dritta ma le ginocchia sono piegate, ok, non stiamo mai con i piedi totalmente, diciamo con le ginocchia totalmente rigide sulla padana, ok, state andando, 9 minuti ci mancano, sentite tantissimo sollecitamento, ok, se lo volete più, diciamo, più dolce, le porto in centro, altrimenti più largo è quello che ci sta dando il massimo allenamento con il nostro Viber Power, ok, si è cambiato, scendo giù, mi sdraio, mi lascio però in questo momento con le mani, ok, mani indietro, questo vuol dire sono sollevato sulle mani, sollevato sulle gambe, cominciamo a fare il dip, 30 secondi, ok, ci mancano 8 minuti e continuo a lavorare, dai, continuiamo, continui, spingi su e giù, su e giù, bel allenamento, ce l'ha fatta, continui, uh la la, uh la la, ok, passato, più veloce, prendi anche l'elastici questa volta, anche l'elastici, non lasciamo niente a casa, niente a casa, spalle, gambe, tutto insieme, su e giù, spingo, 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 perché vi voglio allenare, con Viber Power, ci piace, continui, continui, 8 minuti ancora ragazzi, allenamento, total body, ok, ci siamo quasi, quando cambia la velocità, ritorneremo sul nostro interno coscia, interno coscia, ok, divarico, alzo le punte dei piedi, ok, equilibrio, equilibrio, abdominale tesi, tiene la posizione, brava ragazzi, bravi, 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 assenti allenamento, questo ovviamente è il nostro allenamento più intenso, più avanzato di tutto il DVD, ok, quando cambia, cambiamo tutto, vediamo che le braccia si stanno muovendo, braccia stanno muovendo, dominali stanno muovendo, schiena, tutto insieme, è partito, ok, tutto sulle gambe destre, spingo, 2, 3, cambio gamba, spingo, 2, 3, cambio gamba, vado, 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 cambio gamba, bacio che l'altro quasi viene massaggiato, mentre uno sta lavorando, uno si sta quasi massaggiando, ok, andiamo più fuori con il tallone, proprio con il fianco, allarga il fianco, allarga il fianco, vai, cambio ancora, allarga il fianco, allarga il fianco, e si è rallentato, ok, piccolo recupero, ricopriamo questi 30 secondi, posizione neutro, posizione calma, dopodiché scenderemo di nuovo a terra per lavorare sulle braccia a potenza 15, ok, potenza 15 per dare tanto tonificazione, tanto rassodamento, e se non avete notato, io sto sudando, perché sembra passivo, ma in realtà è iperattivo, vibro power, iperattivo perché lui sta lavorando per me, ci mancano 6 minuti, ok, partito, scendo, ok, io rimango con le ginocchia sollevate, ok, piego le gomiti, continui, 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 scenderemo tutto, anche la schiena, lo sentirete anche la schiena, fantastico, a questo punto dopo, questo rimarrimo giù, e lavoreremo proprio sui nostri tricipiti, tricipiti, ok, che vuol dire la parte posteriori delle nostre braccia, oh, si sente da tutte le parti, ok, cambiato, passo di fronte, a questo punto, le mie mani vanno sempre su vibro power, spalla indietro, gomiti indietro, piego poco a poco e tengo la posizione, finito questo scatto di 30 secondi, ritorniamo in piedi, scendo e salgo, e scendo e salgo, continui, scendi e sali, oh, senti il lavoro, se è troppo difficile a fare il movimento, ti tieni fermo, ok, ti tieni fermo, lascia che vibro, lavoro per te, continui, è passato, siamo di nuovo veloce, tutti quanti su, oh, lo senti, giriamo in surf, sono indietro, su, il tallone indietro, coge tutto il peso sul tallone, continuiamo per 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambio, tutto su, il tallone, vedi come l'attività, come si sta attivando tutte le mie fibre muscolari, come sta aiutando, anche con le ossa, questa è una cosa importante, anche con le ossa, ok, ancora 5 minuti, ah, è cambiato, uh, torniamo giù, interna coscia, interna coscia, molto importante, salgo, poco a poco, vedrai l'attività, proprio l'attività sul mio interna coscia, addominali tesi, ok, non adirizzare però mai le gambe completamente, ok, non è necessario, continuo, dai, sta andando, 4 minuti ci mancano per il nostro allenamento di oggi, bello intenso, partito il 15, riprendiamo i nostri elastici, ok, e andiamo in su, avanti e indietro, vai, se è troppo facile così, la colci, ok, avanti e indietro, non alzate le spalle però, mi raccomando, non alzate le spalle, possiamo lavorare le braccia senza lavorare il trazie a pezzo, no, così, no, spalle, deltoide, deltoide ancora, dai, spingo ancora, un bello scatto, perché è la cosa bella di vibra power, ok, partito in 10, indietro adesso con le braccia, divarico poco a poco le punte, anche per l'interna coscia, e lavorare sulla parte posteriore delle braccia precipiti, questo è veramente un bello allenamento che stiamo facendo oggi ragazzi, veramente total body, 3 minuti ci mancano, 3 minuti per aver fatto il nostro dovere di oggi, il dovere di avere un fisico, diciamo più tonico, più bello, più snello, semplicemente con le vibrazioni, ok, è un pizzico, ok, eccoci qua, altro scatto, scendo giù, scendo giù, salgo, continuo, scendo giù, 3 minuti ci mancano ragazzi, 3 minuti e le giochi sono fatte, le giochi sono fatte, ok, dai, siamo a 15 qua, oh, rimani su, lasciati vibrare, ultimo scatto, lasciati vibrare, state facendo un ottimo lavoro, poi torniamo giù, andiamo proprio sulla nostra flessione, sopra la nostra vibra power, siamo a 10, e questa, veramente oggi è il massimo dell'allenamento, perché possiamo anche lavorare gli addominali, ok, portando in plancia le nostre ginocchia in avanti, ancora, spingo, 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 2 minuti ancora, 2 minuti ancora, abbiamo finito, continuo, vado, solo 2 minuti, ah, abbiamo quasi cenito ragazzi, ok, tutti quanti giù a destra, spingo, 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 sto sudando, che bello allenamento, 2 minuti e abbiamo, ci siamo liberi, abbiamo fatto il nostro lavoro, fantastico, cambio la gamba, poggio sul lato del tallone, spingi bene, spingi bene, spingi bene, dai giù, 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 poi siamo, donne libere, uomini liberi, tutti quanti, centro, centro, salgo, fatti shakerare, abdominali tesi, mi raccomando, abdominali tesi, ok, ultimi minuto, ultimi minuto di bellezza ragazzi, ok, andiamo in spinta, ultimi minuto, spinta sopra le spalle, vai, 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 e di corso, saranno le ultime 30 secondi, che saranno a 15, che vuol dire altamente intenso, e noi non ci spaventano niente, 41 secondi, abbiamo finito il nostro allenamento, dai, spingo, vai, da grandi guerrieri, che siete, bravi, 31 secondi, ultimo scatto, veloce, bam bam bam, ultime 30 secondi, ultime 30 secondi, spingi, 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 divarica le gambe, interna coscia, 22 secondi, ci siamo voi, è stato veramente un bel allenamento di oggi, non finire, non finire, 15 secondi, 13 secondi, è finito, siete pronti, dai, 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 spingi, 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 e abbiamo finito, 2, 1, e stop, eccellente ragazzi, bell'allenamento, sono fiera di voi, e ci vediamo alla prossima, baci dalla Jill.